Ma oggi proporrò un pezzo che noi suoniamo sempre alla chiusura del DJ Time dove tutti scrivono che pezzo è quello lì? Oggi lo metto. Io lo so cos'è. Tu lo sai però... Ah ok. No perché non lo vedo scritto. Come no? Ah lo vedo scritto. Vabbè ok allora è il momento di molella e quindi... Fiat le trombe! Sulle mani! All right! 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 All right!